Velocissimamente, Bibis, credo di aver trovato il mio animale spirituale perché il dromedario nella sua gobba può contenere 35 kg di cibo quindi quasi quanto io e la mia panza e, questo è ancora più azzeccato per me, può bere 135 litri di acqua in solo 10 minuti Adesso, cambiate l'acqua con il caffè Piacere, io sono Carmi e sono un dromedario ma vabbè, andiamo a pitacci Ciao Bibis e benvenuti sul mio canale YouTube Il mio nome è Carmi e siamo qui riniti oggi per fare un full face di mini taglie di Sephora Ebbene sì, ritorno un'altra volta alla saga di Ho speso troppi soldi, speriamo di non averli sprecati perché, come voi sapete, io adoro le mini taglie Le mini taglie per me sono la vita perché mi piace tantissimo collezionarle Poi mi servono tantissimo quando viaggi, quando vai in giro, veramente sono molto utili e almeno provi il prodotto Di solito, proprio vi dico con tutta onestà, se il prodotto vi è piaciuto acquistatelo poi in taglia normale, taglia grande perché naturalmente risparmiate quantità prezzo Però se siete un po' dei viaggiatori come me, o almeno vi credete viaggiatori come me le mini taglie veramente aiutano tanto Poi, sapete, io colleziono talmente tanto make-up che le mini taglie almeno si mettono in posti che di solito quelle grandi non possono Quindi, parlando di mini taglie, parlando di Sephora Questo è il mio sacchetto delle meraviglie o come mia madre lo chiamerebbe la sacchetta Qui al suo interno ci sono un pochettino di cose Quindi, io me le metto tutte davanti, belle, come se fossero piccoli soldatini Spero loro siano pronte a lavorare Ma vi posso dire una cosa Se c'è una cosa che io non adoro in mini taglie è il mio caffè Perché questo caffè sta diventando sempre più grande Prima o poi io avrò un dromedario per casa con la riserva di caffè Che figata Partiamo subito, Bibis, con un prodotto che credo non sia veramente facile da reperire Però è stato l'unico primer che io ho trovato Ma mi inizia a sorgere dubbio se l'ho trovato da Sephora o se l'ho preso da un'altra parte ed è entrato nel sacchetto Sephora Perché questo qua è un prodotto di Ilamasca Ed è Lydra Bell, che è il loro primer Adesso, mi ricordo che un bel po' di voi mi hanno chiesto di provare più Ilamasca Quindi spero che i quattro Bibis che mi hanno fatto questa richiesta Perché me l'avete chiesto in tantissimi Siano ancora qui In caso vado veramente molto molto veloce Ilamasca è comunque un brand che a me piace Ma non ho provato proprio tantissimo Ma le polveri per il viso Per esempio l'illuminante e il contouring Veramente molto carino Allora, esce in maniera molto gelosa Quindi mi ricorda quasi il primer quello della NYX Ok, ha veramente un bel feel Cioè, sembra veramente molto idratante Uh, lascia la pelle anche un pochettino appiccicosa Molto molto carino Cercherò di capire dove ho preso questo cosetto E se in caso non lo trovo da Sephora Cerco di aggiungere un link Su dove trovarlo Naturalmente i link sotto non sono affiliati né niente Ma io ci tengo sempre a dire com'è Questo video non è sinceramente sponsorizzato Perché vedremo che cosa succederà Ma questo è il primer E devo dire che è molto appiccicoso Infatti non so se si vede Cioè È bello appiccicosino Quindi Mi potrebbe ispirare Adesso parto con l'ultima scusa promesso Il fondotinta Non c'era il fondotinta adatto per me Era veramente una cosa impossibile da trovare Questo fondotinta Quindi ho riutilizzato Cioè, riutilizzerò uno dei campioncini Che poi mi hanno dato E questo qua è della Clarence È il Tante Lo scrivo sotto Nell'attualità Amber Che Amber dovrebbe essere abbastanza calda Vediamo che succede Vediamo se riesco ad aprire Io che Fallisco nella vita Ogni giorno E poi scopri che ci sono le forbici Ok Quindi questo è il fondotinta Che forse forse Ci potrebbe stare Vediamo Spero che ne esca abbastanza Per farmi un full face Perché ti dico Questo qua Sembra abbastanza piccolino Oh E sembra soprattutto Molto molto rosso Ok Inizio con Questo che c'è qui Prendo il mio classico pennello Da sfumatura E inizio a fare un pochettino di blending Ok Non sembra un matching Sbagliatissimo Ma è molto caldo Devo dirvi Bibis Che a parte Il match Che è sicuramente Un pochettino Troppo caldo Per me È un po' rosso Come sottotono La coprenza è veramente Molto molto buona Infatti L'apparenza della mia barba Comunque è quasi sparita Non del tutto Ma comunque Ha fatto una bella coprenza E nel campioncino C'è stato per tutta la faccia Quindi Molto molto contento Finalmente Passiamo a Delle mini Che sono sicuro Riuscite a trovarle Nel vostro Local Sephora E sono queste due Sono ambe due Di correttori Questo qui È il NARS Radiance Creamy Concealer Che sinceramente Tutti ne parlavano Adesso nessuno Ne parla più Ma comunque Noi Lo proviamo Perché non ho mai provato Questo correttore qua Voglio vedere Che cos'è What's about E questo qui È uno dei nuovissimi Prodotti di Benefit Che è il Boeing Mini Quindi sinceramente Non so Quali due provare Ma Perché non li proviamo Tutte e due Vado da Questa parte qui Con il correttore Della NARS Quindi lo apriamo Questo è il mini Che è molto molto carino Ma molto molto mini E Vediamo un po' com'è Ok Non ha un odore specifico Non so perché Mi aspettavo Qualche odorino Non lo so Ok Il colore mi sembra Molto molto azzeccato Per me Faccio il naso E la fronte Con quello di NARS Mentre Con quello Della Benefit Mi faccio il mento E il cupid's bow Questo è il pack Di quello Della Benefit Ok I colori sono anzi Quasi Identici Forse quello Della Benefit È un pochettino Più Più Scuretto Però Secondo me Ci può stare E posso dire Sicuramente Già Da come si sono applicati Sulla pelle Che quello Della Benefit Ha sicuramente Più coprenza Cioè lo vedo Molto molto più spesso Infatti Vado Con questo pennello Pulito Faccio quello Della Benefit Prima Perché secondo me Si potrebbe asciugare Troppo velocemente Poi credo sia un finish Un pochettino Un po' più matte Quindi vediamo Come va Facciamo il nostro Tamburello Vediamo Il nostro Sotto occhi Che fine fa Si è steso Molto molto Bene E ha lasciato Comunque Un bel finish Devo dire Che non è Automaticamente Troppo Mettificante Sicuramente Non ha Quell'effetto Glow E non dà Il senso Di Pelle Molto bagnata Ma è più Quasi pelle realistica Diciamo così Vado dall'altra parte Con un altro pennello Pulito E proviamo Questo Della Nars Vado a fare Il nostro Tamburello Che abbiamo deciso Che è il nostro Stile di vita Grazie a voi E vediamo Un po' Com'è Ok Devo dire Che c'è Comunque Coprenza Forse Questo qui Della Nars È un pochettino Più illuminante Infatti non so Se si riesce a vedere Ma nel mio specchio Credo che questa parte qua Sia un pochettino Più Non lo so Dà un po' Più di vita Ecco Quindi forse È uno di quei correttori Che sia Bello illuminante Ecco Diciamolo così Infatti si chiama Creamy Radiance Quindi vuol dire che Se non fa la Radiance Questo Chi lo dovrebbe fare Passiamo adesso Bibis A un prodotto Che sinceramente Non sto più Utilizzando E credo che alcuni Di voi Forse già sanno Che cos'è Ed è la cipria Cipria pressata O cipria loose Perché ho la pelle Un pochettino Più secca Mi sto trovando Veramente bene A non settarla Per niente È una piccola Tips and trick Che ho rubato Alla mia amica Basic Gaia E vi giuro Che da quando l'ho provata Non lo so Mi sta piacendo Sempre di più La mia pelle E sto uscendo di casa Senza nessun problema E devo dire Che Non lo so Sta sempre bella Sta tutta coruccia La mia pelle Quindi io la lascio così Però naturalmente Io a dicembre Queste cose Non le sapevo E ci ho speso Un po' di soldi Questo qua È il Too Faced Born This Way Translucent Powder Che ho magicamente Aperto Tre secondi fa Ed è esploso Per metà Della mia Cameretta Qui Questo è Il contenuto Adesso Come stavo dicendo Perché non utilizzo Tanta cipria O almeno Non sul mio viso Un punto in cui Forse La utilizzerei Comunque Sarebbe Qui Che è praticamente La mia fronte Perché ho un paio Di rinette Espressive E come posso Vedere Questa fondotinta Le sta marcando Un pochettino Troppo Quindi quello che faccio Io di solito E prendo un pennello Quello del fondotinta Alzo un pochettino L'attaccatura Dei capelli O Mostro ancora di più Che io non ho capelli E vado A stendere Ancora di più Così da Muovere Tutto quanto Che c'è Nelle lineette E prendo Un pennello Questo qua È uno dei miei preferiti Ultimamente Che è il Powder Precision Brush Di Nabla Che è veramente stupendo Prendo un pochettino Della polvere E la presso Dentro queste lineette In questo modo Non si va A Settare L'eccesso Di prodotto Nelle rughe Espressive Ma riusciamo A fare Un pochettino Un'applicazione Più smooth Devo dire che È molto Molto carina Non vado a fare Il mio sott'occhi Perché secondo me Si sta seccando Un po' Troppo E lo lascerei Così Forse un pochettino Il mio baffo Il mio baffetto Qui Che suda Tantissimo Proprio pochissimo Però Sì Non La proverò Un po' Di più Se durante L'estate Vedo che mi serve Però Ultimamente Vi dico Le cipre Non le sto utilizzando Quindi La metto qui Non riesco a dirvi Più di tanto In questo momento Però almeno Vi ho mostrato Forse un piccolo Trick con Le linee espressive Della fronte Ma passiamo adesso A uno dei prodotti Che voi veramente Mi avete detto Carmi provalo 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 Ed è ancora di Too Faced Ed è il Chocolate Soleil Bronzer Questo qua è Matte E devo dire che Il packaging esterno È stupendo Cioè Veramente Veramente Molto Molto Bello C'è questo Curicino qui Che lo apriamo Ha uno specchio Quindi molto carina Questa cosa E questo è il prodotto Che Naturalmente è piccolino Qui nel suo interno Ma che ci aspettiamo D'altronde È una cosa Molto easy E vado con Quest'altro pennello Della Nabla Che è il Cheek Shaper Ne prendo un pochettino E vado proprio Qua sotto E faccio un pochettino Di contouring E alcuni di voi Forse mi chiederanno Non ti trovi male Col fatto che Il fondotinta È ancora bagnato A utilizzare Prodotti in polvere Di solito Vi dico Bibis Soprattutto Con questo fondotinta Qua Che sembra comunque Un finish Molto matte Non Non dovrebbe Dar problemi Infatti Non mi sta spostando Il fondotinta Ma se io utilizzo Fondotinta Molto luminosi Di solito Decido Prima dove andare Facendo un pochettino Di pressing Quindi Tamburelliamo Sulla zona Che vogliamo Così in questo modo L'abbiamo settato Con un po' di bronzer E poi Ci vado Leggermente A sumarci sopra Perfetto Bibis Ho fatto anche un pochettino Di contouring Leggero Sul resto Del mio volto Così da riscaldarlo Un pochettino Anche se Con il fondotinta Che era già Arancione Di suo Forse non è stata La mossa Più adeguata Ma almeno Abbiamo un po' di Appalcatura A questo palazzo E passiamo adesso A un prodotto Che è Tra il blush E l'illuminante Perché è De Zoeva Ed è uscito In questo piccolo box Qui Perché Piccolo spoiler alert C'è anche L' eyeshadow palette Che proveremo Tra un secondo Ma questo è Il Illuminante Di Zoeva Zoeva E vi faccio vedere Com'è Che secondo me Ci può stare Anche come Un pochettino Di bronzer Perché questo qua Come illuminante È abbastanza scuretto Per il mio Incarnato Quindi Lo utilizzerò Come tipo Topper Blush Slash bronzer E poi vado con un po' Di questo Come illuminante Che però Devo dire E questo Sono io Forse Se apro Questa palette Che è Quella degli occhi Non lo so Io non ci vedo Tantissimo Questi colori Insieme Almeno se faccio Comunque un look Molto molto caldo Sugli occhi Un illuminante Molto freddo Rosa Io personalmente Non ce lo vedo Ma sapete Zoeva è Zoeva E io devo rispettare Le sue opinioni Quindi vado Con un pochettino Di questo colore qua E lo metto Qui al centro Ok devo dire Che è molto Molto pigmentato Quindi faccio proprio Uno due E ci vado Sopra E devo dire Che è un effetto Molto Molto bronzato Forse un pochettino Scuro per la mia pelle Ma vedo Se riesco A sfumarlo Un pochettino Di più Ok Così già È un pochettino Meglio Quindi mi piace L'idea che comunque Ci sia Qualcosa per Pelli chiare Qualcosa per Pelli un pochettino Più scure Quindi questa è una cosa Almeno questo è carino Che poi alla fine L'altro colore Puoi sempre utilizzarlo Sugli occhi Però questo Ok devo dire Che non è Brutto per niente Potrebbe funzionare Sfumato molto molto Ma molto molto E vado Con un pochettino Di illuminante Prendo quest'altro Pennello qua Vediamo come viene Ok Si nota già È un pochettino Freddo Per i miei gusti Però eh Non è tanto rosa Quanto nella penne Nella penne Sembra sicuramente Molto più rosato Mentre sulla skin È comunque Freddo Ma Ha quasi un effetto Un po' più Bianco Che Non lo so Tra rosa e bianco Non so quale sia peggio Sul mio incarnato Ma vediamo un attimo Come viene Vi devo ammettere Bibis Che in questo momento La mia pelle Non mi piace La trovo comunque Molto molto secca E i prodotti Contouring And highlighting Secondo me Non hanno funzionato Per me Comunque vorrei riprovare Il bronzer di Too Faced Su Comunque una base Che di solito uso Perché comunque Non lo so È molto molto secca Sta diventando Veramente molto secco Questo fondotinta E sta diventando Sempre più scuro Si noterà più tardi Sul collo Quando faccio i close up Che questa parte qua Sta diventando Veramente molto Rossa Molto aranciata Quindi Veramente non mi piace Che c'è da dire Per il momento No Ma vabbè Io vi avvicino Tra due secondi Continuo a suggerire Il mio caffè Spero nel miracolo Se anche voi Volete un miracolo Vi prego Finger cross for me Io direi Bibis Che più il tempo passa E più stiamo diventando Dei piccoli Umpa loompa Quindi Io Prima che mi trasformo In un gnomo Da giardino Inizio a Fare gli occhietti E come vi ho detto prima Utilizzeremo Questa palette Di Zoeva Che è La caramel Melange Questo è Il suo interno Che devo dire È molto carina Cioè Questi sono comunque I colori di cui Io mi trovo Molto a mio agio Da utilizzare Sono caldi Ci sono un pochettino Di punti luce Ci sta Quindi io direi Di iniziare Con questo qui Che è Quello un pochettino Un po' più aranciato Tanto per stare In tema di Arancione Sul mio viso Uh ok Bello pigmentato Come base Comunque ho utilizzato Il correttore Quindi da questa parte Abbiamo il correttore Della Nars Da questa qua Abbiamo il correttore Della Benefit E vediamo Che funziona Ok Si sfumano Molto molto bene O almeno Un colore alla volta Sembra sfumarsi Vediamo Dall'altra parte Facciamo il nostro tamburello Il nostro sfumo 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 Ok Devo dire Bibis Che non ho notato Nessuna differenza Tra i due concealer Utilizzati come primer Infatti Hanno sfumato Tutti e due Molto molto bene Forse Questo qui Comunque ha lasciato Quello di Benefit Un pochettino Più di Luminosità Sulla palpe Però infatti Questo arancione Qui è un pochettino Più chiaro Mentre questa parte qua È un pochettino Più Più sfumata Ma andiamo avanti Lo stesso Vediamo che succede Vado con un pennello Di quelli belli Grandi Grandi E voglio utilizzare Questo arancione Qui Che è un bronze Arancione Non lo so Vabbè Oggi faremo un look Tutto arancione E lo vado a mettere Uh Ok Bello pigmentato Il pennello Era comunque asciutto Lo vado a mettere Al centro Dei nostri occhietti E anche un pochettino All'angolo esterno Ok Molto carino C'è un pochettino Di fallout Sullo shimmer Non ce n'era tanto Con il matte Ok Mi sono appena reso conto Che c'è più fallout Sul mio naso adesso Che non c'è mai stato Negli ultimi dieci anni Da questa parte qua No Da questa parte qua Invece Secondo me Ho preso Troppo troppo prodotto Vado a prendere Il pennello Quello Dove abbiamo utilizzato La cipria E faccio proprio Questo flick up Così dovrebbe Rimuoversi Il più possibile Ok Devo dire che Si è tolto Abbastanza bene C'è un po' Questo angolo interno Ma quello Lo posso salvare Solo con un pochettino Di concealer Sopra Vediamo che succede Ok 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 Si è un pochettino Salvata la situation Io comunque Super messy Vabbè Andiamo avanti Quindi sappiamo Che questi qua Hanno un bel po' Di fallout Se presi Un po' accessivi Come ho fatto Quindi è colpa mia Vado ad utilizzare Adesso Il colore più chiaro Che è questo qui Shimmer chiaro Ne prendo giusto Un pochettino alla volta Torgo l'eccesso E lo metto Nell'angolo Interno Ok Si inizia A vedere qualcosa Devo dire Proprio come Primissima volta Perché non credo Di aver mai provato Ombretti zoeva Che mi viene in mente Ho provato le polveri viso E devo dire Che si sfumano Molto molto bene Una palette Viso carina Che ho utilizzato Un paio di volte Anche online E' un po' spento Come shimmer Però Cioè nel senso E' carino E' lì E' presente Ma Non lo so Ma mi Non mi sta facendo Infazzire Ho preso un'altra volta Il pennello Quello del primo ombretto E sfumo tutto quanto Fuori All'esterno Ok E vado adesso Con Un pennello Piccolo da precisione Con l'ombretto Questo qua in mezzo Che è un pochettino Un po' più scuretto E faccio Prima Tutto quanto Il mio sott'occhi Interno Verso esterno Così da sfumare Un pochettino La situation Poi prendo proprio Un altro pochettino E faccio L'angolo esterno Tanto per raggiungere Un po' di definizione Perché Vi dico Certe volte Quando gli shimmer Sono belli power E sono belli Visibili Non c'è nemmeno Tanto bisogno Di utilizzare Tanti colori All'esterno In maniera Molto scura Perché comunque La palpebra È bella luminosa Ma questi qua Devo dire Che sono Un po' una schifezza Devo dire Che non mi stanno Piacendo per niente Come mascara Bibis Sto utilizzando Questo qui Della Nars Che si chiama Il Nars Climax Mascara Che devo dire Ha veramente Un bello scovolino Mi piace Perché sta prendendo Il prodotto Molto molto bene E mi sta dando Una mano A non solo Allungare Le mie ciglia Che voi sapete È quello che io Cerco di più Nei mascara Ma anche a dare Un po' Una curve Quindi tirarle Un pochettino Verso l'alto Perché se no S'abbassano E fanno Ste Cia Da dromedario Che abbiamo Decido Che sono io E quindi no Sto cercando Di tirarle Un pochettino In su Però Devo dire Che Il mascara Sta dando Veramente Un bell'effetto È costosino Come mascara Perché figurati Nars Non si ferma A low cost Però Come mascara On the go Sembrerebbe Molto decente Passiamo adesso Vivis All'ultimo prodotto Naturalmente Parliamo Di prodotto Labbra Ma questo qui Non è un rossetto Ma è un Lip Injection È praticamente Di Too Faced Sexy Lip Dovrebbe praticamente Fare un po' Di plumping Tra le belle grandi Alla Valeria Marini Almeno ci speriamo Al 97% Deliver instant result Quindi il 97% Delle persone Ha detto che Subito si nota Il 97% Ancora una volta Ha detto che Le labbra Sono molto Moisturized Quindi molto Soffici Belle idratate E il 93% Abbiamo perso Quattro di loro Le labbra Sono Un'apparenza Molto più Più piena E più plump Quindi non lo so Vediamo che cos'è Questa cosa Io vi dico Lo volevo comprare Da una vita e mezza Ed è questo qui Così Ha veramente Un bel colore Infatti il colore Sembra molto Molto carino Vediamo com'è Ok Ha un odore Tra una caramella E qualcosa Un po' Peperoncino Quindi faccio Un attimo Un Un pochettino Vediamo com'è Io che inizio ad avere Paura Dei Lip Lumpy Io li adoro Voi sapete Io adoro i Lip Lumpy Uno dei miei preferiti È della Barry M E si chiama That's Well XXL Nella colorazione Bougie Quello è uno di quelli Che uso Quasi sempre E fico Altre perché mi piace Perché c'è un po' Di colore È veramente Un bellissimo Nude E credo Riuscite a trovarlo Su Asos Su Asos O su Bougie Uno dei due E so che Sui discone in Italia Anche abbastanza Velocemente Ok Non Non sento niente Non sento niente Ok Eccoci qua Bibis Siamo tonnati E questo è Il look finale Devo dire Bibis Voi sapete Io dico sempre Le cose Come personalmente La vedo io Il make up È estremamente Soggettivo Questa è la mia esperienza Di solito So come mi trucco Questo è il trucco Di oggi Non mi piace Per niente Vi faccio vedere Adesso le close up Con e senza luci Artificiali Così almeno avete Qualcosa di visivo Davanti a voi Avete un contesto Visivo Che almeno potete Forse seguirmi Mentre vi racconto Che questo è stato Un fail Ci sono davvero Tante cose Che non mi sono Piaciute La maggior parte Sono molto Ok Va bene lo stesso Forse c'è un prodotto Che posso dire Mi viene voglia Di utilizzare Un pochettino più volte Perché è stato Anche abbastanza Performante Però anche quello Al suo perché Quindi Io direi di Iniziare subitissimo I prodotti per me Super bocciati Sono queste due palette Di Zoeva Troppo polverose Lo shimmer Non è shimmer I matte Sono carini Ma non ne vale Una palette così Per i matte Queste sono le uniche Che ho provato Su me stesso Vedrò se ne riuscirò A provare altre Voglio provare Il fondotinta Queste Queste In specifico per me No Sto coso Io sto ancora aspettando Che plumping Perché non sta Plumpando per niente È un bel gloss Carino Vari soldi Per gloss Assolutamente No Il fondotinta Il fatto che non avevo Il fondotinta Oggi Era proprio un segno Che non sarebbe Andata bene Ossida tantissimo Ossida Non solo Una volta che Applicato Ma anche Durante la giornata O almeno Durante quest'ora e mezza Che io ho Questo make up addosso Sta diventando Sempre più rosso Ed è molto secco Cioè nel senso Io non ho settato La mia base per niente Non ha transfer È molto Molto Effetto opaco Veramente opaco Quindi Forse se hai la pelle Un pochettino mista O molto grassa Questo fondotinta Potrebbe funzionare Però Vedi se ti danno Un campioncino Perché Ossida Quindi il colore Che inizialmente Non è quello Che ti ritrovi Più avanti Durante la giornata La cipra di Too Faced Carina Cipra normale Non mi ha dato Nessuna cosa differente Anzi Si intravedono Un pochettino Le mie lineette qua Ma Credo comunque Si ha il fondotinta Molto secco Quindi Questo è un po' Un pass Perché non ne sono Molto sicuro Il primer Sembra carino Dovrò provarlo Dovrò capire Se veramente Si può acquistare Da Sephora Quindi vi prego Non diamo caso Il primer I due correttori Carucci Hanno corretto Sì Posso dire sicuramente Che questo qui Scusate Della Benefit Ha più coprenza Di quello Della Nars È comunque Più matte Rispetto A quello Della Nars Si sono Summati I due Molto bene Sono i miei Correttori preferiti Secondo me Non sono adatti Per quello Che cerco io Non mi sta piacendo Questo qua Forse è un pochettino Troppo matte Per me Forse dovrò utilizzare Un contorno occhi Sotto Un pochettino Più strong Perché Sì Non Non mi sta facendo Impazzire Però so che comunque Tantissime persone Si trovano benissimo Quindi non lo so Lo riproverò Per capire Ma Non ho tante Tante speranze Quello della Nars Carino Secondo me È troppo costoso Lo stesso più o meno Con l'unico prodotto Che a me è veramente piaciuto Che è stato il mascara È un bel mascara L'applicatore è molto bene È molto intenso È molto nero Ha dato veramente Una bella Una bella Una bella aiuta A queste lashes Devo dire la verità Il mascara Mi sta piacendo È carino Ma è troppo costoso Cioè Questa mascara Costa veramente troppo E l'effetto È ok Cioè nel senso Posso dirvi Almeno 15.000 dupes Dupes Su mascara Low cost Che fanno Lo stesso effetto Quindi Non lo so La terra Di Too Faced Dovrei riprovarla Perché sinceramente La terra Sembra carina Si è sfumata molto bene Ma perché la base sotto Del fonotinta Non era perfetta Secondo me Ho avuto un po' di problemi A utilizzarlo Quindi Questo è tutto per oggi Questo è un pochettino Un fail Non mi piace il mio makeup Credo di avervelo detto Anche abbastanza Vado a struccarmi L'unica cosa L'unica cosa che posso dirvi Mi piace questa maglietta Che sfortunatamente Non si riesce a vedere Perché c'è scritto My presence Is your present Ma io la vedo al contrario Quindi la vostra presenza È il mio regalo Quindi grazie per essere stati Qui con me Se vi è piaciuto Questo video Lasciatemi una thumbs up Mi prego Ne ho bisogno Scrivetemi giù Nei commenti Che cosa ne pensate Se ci sono alcuni Di questi prodotti Che voi adorate Sono molto contento Per voi Casomai Datemi un po' Una tip Su come utilizzarle Se voi li mischiate Se vuote qualcosa Mi raccomando Fatemi sapere Aiutate Il mio bank account Che sta morendo Insieme a questi prodotti Insieme a questa faccia Che sta andando sempre più secca E niente Iscrivetevi al canale Se vi va E come dico sempre Always remember Like if you like Hate if you hate And until next time You're welcome Un bacio grandissimo E sorseggiamo Qualcosa che Mini size Non lo voglio Generally Iscrivetevi al canale Non lo voglio